La semplicità di queste tecniche, comprese CRISPR, le rendono anche pericolose, perché se finiscono in mano un deficiente, questo deficiente può fare dei danni e noi ci auguriamo che questo non succeda. Cosa è la tecnica di modifica del DNA CRISPR? Questa tecnica CRISPR, per cui Jennifer Dautna ed Emmanuel Charpentier hanno appena preso il premio Nobel per la chimica, è in realtà una tecnologia derivata da una proprietà naturale dei batteri, è un po' il sistema immunitario dei batteri. Jennifer Dautna e Emmanuel Charpentier hanno modificato questa proprietà naturale dei batteri di cui parlerò fra un attimo, trasformandola in una tecnica che si può utilizzare in laboratorio e che è stata giustamente paragonata alla tecnica di taglia e incolla che utilizziamo quando stiamo scrivendo un testo, perché nei batteri esiste un sistema per difendersi dei virus che funziona proprio così. E forse vale la pena anche di spiegare come è stata scoperta questa cosa. Un microbiologo spagnolo, che si chiamava Mojica, e che studiava i batteri del terreno, quindi nulla a che vedere con le patologie, con le infezioni, eccetera, si rende conto che batteri molto distanti fra di loro, come potremmo essere noi dai rettili, dai coccodrilli o dai pesci, hanno nel loro DNA dei pezzi che sono sempre uguali. Allora, quando l'evoluzione conserva in specie viventi molto diverse certi pezzi di DNA, vuol dire che questi pezzi sono importanti. Mojica quindi incomincia a cercare di capire che cosa hanno di importante questi pezzi e scopre che questi pezzi, che sono uguali dappertutto, separano dei tratti di DNA che non appartengono al batterio, ma appartengono ai virus. E quindi capisce che quello è un sistema con cui i batteri, che come noi sono sensibili all'azione dei virus, tengono memoria dei virus che li hanno già attaccati. Se il virus li uccide non c'è niente da fare, ma se sopravvivono all'infezione, trattengono un pezzo di DNA del virus e quando un altro virus li attacca, grazie a questo lo riconoscono e tagliano il suo DNA. E questa scoperta di Mojica ha messo in moto un sacco di energie intellettuali, fino a che si è riusciti a trasformarla in una tecnica che oggi può essere applicata alle cellule umane e permette all'interno di una cellula di intervenire in un punto specifico. Per esempio, dove c'è un gene che non funziona e produce una malattia. In questo modo è già concepibile, e si sta già cominciando, a intervenire su alcune malattie. La fibrosicistica, la distrofia muscolare, sono malattie importanti. Ma certo, a noi importerebbe trattare altre malattie. Il diabete, per esempio, i cancri, le malattie neurodegenerative, Alzheimer, Parkinson, o le malattie cardiocircolatorie, che sono la principale causa di morte nell'uomo. Perché non riusciamo ancora a farlo? Non perché CRISPR non sia capace, ma ancora una volta per mancanza di conoscenze di base. Perché queste malattie non dipendono dall'azione di un solo gene, che quindi si può individuare e correggere, ma dall'azione congiunta di tantissimi geni, a volte centinaia o migliaia, e di tantissimi fattori ambientali. E quindi quello che dobbiamo fare per rendere CRISPR più operativo adesso è fare un grosso investimento nella scienza di base e cercare di capire meglio quali sono i meccanismi fondamentali attraverso cui il DNA governa queste patologie e in che modo il nostro DNA è influenzato e interagisce con fattori ambientali. Dobbiamo averne paura. Qualunque metodo scientifico, qualunque tecnica scientifica, si presta a tantissimi utilizzi diversi. Effettivamente i segnali non sono positivi. Ci sono delle figure che si autochiamano biohackers, che ritengono di poter manipolare il proprio organismo liberamente in modo da renderlo più funzionale o migliore. Questi biohackers da un lato rivendicano una libertà su cui si potrebbe discutere, perché se uno produce su se stesso delle modifiche ereditarie, dopo queste modifiche vengono trasmesse ai suoi figli, ai quali naturalmente non si è chiesto il parere. Quindi c'è un accordo internazionale per evitare di utilizzare CRISPR per modifiche che riguardano le nostre cellule fertili, i nostri spermatozoili, le nostre cellule uolo. Forse un ricercatore cinese ha violato questa regola, non si sa, comunque è stato espulso dalla comunità scientifica, forse è raccontato una palla. Questi biohackers però stanno già lavorando su se stessi. Per esempio ce n'è uno negli Stati Uniti d'America, di cui vorrei che mi venisse in mente il nome, ma non mi viene in mente il nome, il quale ha letto in un articolo scientifico che c'è una proteina che è prodotta da un gene, ogni gene produce una proteina o più proteine, che blocca lo sviluppo muscolare a un certo punto della nostra crescita, del nostro sviluppo. I nostri muscoli non crescono indefinitamente. E sostiene di essere riuscito tramite cose che ha comprato su internet a confezionarsi un kit attraverso il quale lui riesce a produrre quantità inferiori di questa proteina che blocca lo sviluppo muscolare. Pensava di diventare Superman. In realtà questa proteina l'evoluzione ce l'ha data, perché se il muscolo si sviluppa più delle ossa, alla fine il muscolo spezza e ossa a cui è attaccato. Josiah Zeiner si chiama questo biohacker. Non si sa bene cosa abbia fatto, comunque ha dichiarato pubblicamente di essersi pentito di quello che ha fatto, che forse era meglio non farlo. Ecco, la semplicità di queste tecniche, comprese CRISPR, le rendono anche pericolose, perché se finiscono in mano a un deficiente, questo deficiente può fare dei danni. E noi ci auguriamo che questo non succeda. Siamo anche su Instagram.